Erano circa le 9 di martedì mattina quando gli abitanti di Corte Cesarini, lungo l'argine del cerchio a Ponte San Pietro, hanno visto levarsi alte le fiamme da questa capanna adibita a fienile, ma ormai in disuso da decenni. Immediatamente è stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con una squadra e due mezzi appoggio. L'incendio è scaturito al piano superiore dell'edificio, dove era ammassato del fieno, inutilizzato da molti anni, e per effettuare l'intervento in sicurezza, i vigili del fuoco hanno dovuto operare tramite l'autoscala, dato che il fieno bagnato rischiava di far cedere il solaio fatto di travicelli. Nonostante la pioggia della mattina, ci sono volute diverse ore per bonificare eventuali fucolai all'interno delle balle.